signori buongiorno e benvenuti sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale un paio di settimane fa abbiamo parlato delle azioni di combattimento oramai più di un mese fa abbiamo parlato della sequenza del turno adesso è arrivato finalmente il momento di vedere come queste due cose si collegano assieme dando origine alla sequenza del combattimento che fondamentalmente è la meccanica cardine su cui si basa l'intero di 20 system la sequenza del combattimento è probabilmente l'elemento meccanico più ricorrente all'interno di una qualsiasi sessione di un qualsiasi gioco basato sul d20 system ed è anche molto probabilmente il primo scontro diretto con la meccanica del gioco che un master inesperto si può trovare ad affrontare quindi prendiamoci tutto il tempo e vediamo di andarla analizzare nei dettagli il primo concetto da introdurre per parlare della sequenza del turno è il tiro d'iniziativa il tiro iniziativa è fondamentalmente una prova di destrezza si basa quindi sul dado da 20 più destrezza più modificatori vari in questo caso però non c'è alcuna classe difficoltà da battere il risultato ottenuto infatti andrà a indicare in quale ordine il personaggio agirà all'interno della sequenza del round un personaggio che abbia ottenuto un tiro più alto agirà per primo e via a scendere fino al personaggio che ha ottenuto il punteggio più basso se due personaggi hanno ottenuto lo stesso risultato va per primo quello che ha il punteggio di destrezza più alto se sono in pari anche in questo caso procedono al pari o dispari chiarito questo andiamo a vedere la sequenza del combattimento vera e propria per prima cosa il master deve valutare se sussiste o meno il round di sorpresa non necessariamente tutti i partecipanti a uno scontro sono coscienti nello stesso momento che lo scontro ha avuto inizio un gruppo di personaggi potrebbe avvistare un altro gruppo suo avversario in distanza molto prima che questi li vedano a sua volta magari un personaggio che è andato in avance coperta potrebbe avvistare i mostri ed essere a sua volta visto molto prima che i compagni che sono rimasti indietro sappiano che lo scontro è iniziato o semplicemente un personaggio che è distratto nel fare qualcos'altro potrebbe non accoggersi che gli sta arrivando qualcuno alle spalle con un pugnale in mano tutte queste azioni sono gestite dalla meccanica del round di sorpresa il master decide quali personaggi sono coscienti che lo scontro è iniziato naturalmente dopo avergli fatto fare tutte le prove del caso per percepire nemici nascosti sentire rumori quello che è e questi personaggi coscienti tirano iniziativa nell'ordine di iniziativa che hanno tirato ognuno di loro ha la possibilità di eseguire un'azione parziale cioè una singola azione o standard o di movimento in questo round di combattimento iniziale il round di sorpresa appunto fin tanto che non arriva il proprio round nell'ordine di iniziativa un personaggio è considerato colto alla sprovvista quindi non somma destrezza all'armatura né altri bonus ne abbiamo parlato nel video oramai vecchissimo sulla classe armatura andatevelo a rivedere fin tanto che non arriva il proprio turno si è colti alla sprovvista i personaggi che non esiscono durante il round di sorpresa saranno colti alla sprovvista fino all'inizio del loro round nel primo turno di combattimento e quindi saranno suscettibili ad abilità come l'attacco furtivo e via dicendo naturalmente se tutti i partecipanti di uno scontro diventano coscienti che lo scontro è iniziato nello stesso momento non si svolge nessun round di sorpresa sia nel caso in cui entrambe le fazioni sono già coscienti della presenza dell'altra fazione perché si sono viste sulla distanza o si sono percepite tramite rumori o qualsiasi altro metodo sia nel caso entrambe le fazioni non sappiano della presenza dell'altra e si trovino all'improvviso un gruppo davanti all'altro questo è il motivo per cui bisognerebbe sempre mandare il ladro a sbirciare l'angolo del muro prima di girare in un corridoio se il round di sorpresa non c'è stato o una volta che il round di sorpresa è stato risolto tutti i partecipanti allo scontro che non l'hanno ancora fatto tirano adesso l'iniziativa il loro risultato iniziativa viene aggiunto all'ordine iniziativa che era già stato stabilito per il round iniziale il round di sorpresa con questo secondo tiro iniziativa inizia il primo round di combattimento e la seconda fase della sequenza del combattimento adesso ogni personaggio agisce nell'ordine iniziativa partendo da quello con iniziativa più alta fino ad arrivare a quello con iniziativa più bassa quando l'ultimo personaggio nell'ordine agito il round di combattimento termina a questo punto fondamentalmente o il combattimento è finito o si procede a eseguire un secondo round di combattimento e poi un terzo e così via fintanto che il combattimento non viene portato a termine per rendere la cosa più chiara è meglio rappresentare il tutto come un diagramma di flusso dopo aver controllato se sussiste e nel caso eseguito il round di sorpresa i round di combattimento si ripetono fino a quando il combattimento non ha termine con i partecipanti che agiscono nell'ordine iniziativa quando l'ultimo round di combattimento ha termine è finita anche la sequenza del combattimento non esiste un metodo univoco per stabilire quando un combattimento è finito normalmente ci si basa sull'accordo implicito tra giocatori e master naturalmente se tutti i membri di una delle fazioni sono morte l'altra fazione avrà vinto e quindi il combattimento è finito però se alcuni personaggi scappano il combattimento potrebbe terminare o magari il master e i giocatori vogliono continuare a tenere la sequenza dei round anche durante l'inseguimento di quelli che stanno scappando se decidono di inseguire durante un combattimento un personaggio potrebbe deporre le armi e cercare di parlamentare per chiedere o concedere tregua magari tutti i membri di una fazione depongono le armi il combattimento si interrompe e i gruppi cominciano a parlamentare il combattimento potrebbe riprendere con un nuovo board iniziativa qualche momento dopo se l'accordo non è stato stabilito sarebbe però una nuova sequenza di combattimento con un nuovo tiro iniziativa il master potrebbe anche stabilire una sequenza di un combattimento senza che ci siano degli avversari per gestire più semplicemente delle azioni complesse da parte dei giocatori o anche per aumentare il pathos per motivi narrativi ad esempio i giocatori vengono chiusi all'interno di una stanza blindata e il master concede loro tre round di combattimento quindi tre azioni a testa in ordine per riuscire ad aprire la porta blindata prima che finisca l'aria all'interno della stanza spesso un master può chiedere anche solo una prova iniziativa senza che questo porti a una reale sequenza di combattimento per vedere quale personaggio agisce prima in una situazione immediata due personaggi trovano un libro magico uno dei personaggi vuole aprirlo per vedere se ci sono degli incantesmi utili l'altro vuole tenerlo sigillato per paura che ci siano delle trappole o delle maledizioni sopra il master chiede ai due personaggi di spareggiare l'iniziativa tra i loro per vedere chi è il primo a metterci le mani sopra e a quel punto non parte una sequenza di combattimento quello che l'ha preso in mano per primo decide punto normalmente un personaggio non può cambiare il proprio ordine e iniziativa ma ci sono due azioni specifiche che gli permettono di farlo la prima e più comune è quella di ritardare quando arriva il proprio turno un personaggio può dichiarare di voler abbassare il proprio risultato di iniziativa fino a un massimo di 10 più punteggio di destrezza in meno rispetto a quello che ha effettivamente tirato il personaggio può dichiarare un valore specifico un personaggio può dire che no io preferisco agire a iniziativa 8 invece che iniziativa 12 o può semplicemente dichiarare che ritarda e poi inserirsi più avanti nel numero del round quando ritiene sia più opportuno per il suo personaggio agire anche in questo caso nel caso due personaggi vogliano ritardare allo stesso livello di iniziativa agirà dopo quello con i modificatori più alti se in caso di parità quello con la destrezza più alta e così via il personaggio da ora in poi agirà in questo nuovo ordine di iniziativa che ha dichiarato anche nei round successivi alternativamente un personaggio potrebbe dichiarare che prepara un'azione durante il proprio round un personaggio può usare un'azione standard per dichiarare che farà una specifica azione parziale solo quando si verificherà uno specifico evento normalmente chiamato grilletto ad esempio il personaggio può dichiarare che lancerà una freccia se quell'incantatore sembra che sia per lanciare un incantesimo o che taglierà la corda se qualcuno sale sul ponte cose del genere quando la condizione grilletto avviene il giocatore esegue immediatamente la sua azione parziale al di fuori del proprio round in realtà al di fuori della sequenza del round da questo momento in poi il suo nuovo ordine di iniziativa sarà quello a cui ha eseguito l'azione il che vuol dire che potrebbe abbassarsi se l'azione avviene all'interno della stessa sequenza di combattimento dopo che il giocatore abbia dichiarato che sta preparando l'azione ma potenzialmente potrebbe anche alzarsi se la sequenza del combattimento finisce se il turno finisce e il grilletto del giocatore scatta prima del proprio round ma durante il turno successivo di combattimento naturalmente quest'azione parziale al giocatore va a costare come un intero round nel suo successivo turno quindi il giocatore preparando un'azione non può agire una volta in più non può fare tre azioni in un round ma in realtà finisce per fare tre azioni in due round quindi avere un'azione in meno per questo video è tutto mi piacerebbe sapere da voi se avete dei racconti interessanti su quando avete utilizzato a vostro vantaggio l'ordine d'iniziativa o quando siete stati rimasti fregati dall'ordine d'iniziativa se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale io sono il Master Kai noi ci rivediamo al prossimo video ciao